Buonasera, vediamo stasera come realizzare con le tecniche di sculpting e usando il multi-res una testa mesh in modo molto semplice e la conseguente baking che permette di aumentare il dettaglio usando Second Life Esiste appunto questo documento di Google Doc che spiega un po' i passaggi e cercheremo di farli uno per ciascuno quindi la prima cosa che dobbiamo fare è abbozzare la testa con un subsurf su un cubo quindi in pratica si prende un cubo, gli si applica un livello di subsurf e poi si adattano i vertici in modo tale che frontalmente siano più o meno assomigliano alla testa e lateralmente anche più o meno siano da quelle parti ok, e quindi andiamo in Blender abbiamo il nostro cubo dobbiamo applicare il modificatore di subsurf quindi andiamo qua al modifier, subdivision, surface e diciamo che va bene 1 facciamo 1 facciamo, avvaliamo di fronte e avendo tutto selezionato facciamo un po' ovale quindi facciamo e magari aggiungiamo il user preferences screencast ok screencast così vedete anche voi i tasti che premo i tasti che premo appaiono lì facciamolo un pochino più grande ok, così sapete cosa sto premendo perfetto allora questo qui è il cubo vedete che il cubo non è proprio una faccia normale per farla possiamo semplicemente scalarla lungo l'asse x quindi facciamo s x e la facciamo un pochino più ovale ok poi facciamo così avevo fatto 1 andiamo 3 lo vediamo di lato e qui se riusciamo cerchiamo di fare in modo tale da allungare il mento se ce la facciamo quindi per ottenere questo effetto quindi c'è lì quindi vedete che questa parte qua va bene prendiamo solo la parte in basso e la allunghiamo un pochino verso l'estremità questo lo si può fare in molti modi andiamo in edit mode quindi con tab ma facciamo 5 per vederla proprio in prospettiva vedete il vantaggio adesso di avere il subsurf è che noi possiamo lavorare con meno vertici quindi cosa facciamo dunque agiamo anche su i vertici nascosti A B prendiamo i vertici qui del basso vedete che ha selezionato tutti questi due vertici 3 e questo qui facciamo G e li spostiamo un po' in modo tale da da avere praticamente questo effetto ok? quindi abbiamo praticamente una cosa che assomiglia potrebbe una grande linea assomigliare a una testa ok e questo diciamo è tutto quanto a livello artistico mi consente di fare ricordiamoci di applicare il modificatore quindi facciamo apply di questo modificatore mentre si è però in object mode perché se si è in edit mode e si fa apply abbiamo un errore quindi andiamo in edit mode andiamo in object mode facciamo apply e poi ricordiamoci di fare lo smooth di questa cosa questo oggetto in modo tale che appaia un leggermente più umano ok ora a questo punto possiamo fare in molti modi qui ma agiamo direttamente quindi andiamo sulla seconda slide quindi abbiamo applicato il modificatore andiamo sulla seconda slide e qui abbiamo attiviamo il multires e cerchiamo di avere una geometria con simmetria attiva quindi andiamo nel nostro nel nostro oggetto e aggiungiamo add modifier un multiresolution e aggiungiamo con subdivide quindi subdivide 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 5 e 6 arriviamo fino al livello 6 ok? quindi vedete che è venuto questa specie di uovo ce lo vediamo frontalmente e su questo uovo adesso cerchiamo di metterci il nostro il nostro volto il nostro volto lo facciamo con le tecniche sculpted quindi andiamo qua sculpt mode ecco allora qui abbiamo object as non uniform scale ok eravamo rimasti che lo sculpt mode ci aveva dato un warning perché avendo modificato in object mode le dimensioni la scala di questo oggetto che si vede da qua a destra le transform rotation rotation scale vedete che non è più unitaria quindi bisogna in questo caso avere uno dappertutto e per avere uno dappertutto occorre avendo selezionato l'oggetto andare a fare l'apply scale facendo l'apply scale quello che succede è che la scala viene ricondotta in maniera unitaria questa è un'operazione che non è sempre necessaria però a volte è fondamentale torniamo a noi quindi object mode sculpt mode vedete che se non ci da più nessun errore e ci viene il nostro oggetto cioè il nostro pennello con cui possiamo incidere ci avviciniamo e dobbiamo fare gli occhi il naso la bocca e poi forse i capelli vediamo un po' cosa riusciamo a fare però prima di tutto ci accertiamo di avere la simmetria lungo la x quindi facciamo simmetri x quindi siamo sicuri che se noi scaviamo qua facciamo fare gli occhi quindi come facciamo quindi prendiamo pure la brush più semplice può essere questa proprio il pennello più semplice e poi proviamo a vedere un attimo se riusciamo a scavare gli occhietti qui vedete gli occhietti in realtà no ctrl z facciamo ctrl per scavare gli occhi quindi vedete che scavo gli occhi e quindi abbiamo gli occhi abbiamo gli occhi avendo la simmetria x vengono fatte sia sulla sinistra che sulla destra poi possiamo ho premuto ctrl per scavare se invece io non premo ctrl faccio semplicemente faccio così e viene fuori le sopracciglia e poi qui posso fare estrudere cioè fare praticamente il mio naso quindi posso fare praticamente qua e posso praticamente fare il naso col ctrl posso fare la bocca vedete che qui vengono con gli effetti sgorbietti ovviamente chi sa fare queste cose qua può fare veramente delle cose molto migliori usando poi i vari strumenti ok quindi la cosa interessante è che si diceva che il multires consente di lavorare ai vari livelli nel senso che io sto lavorando al livello più diciamo più preciso però se io sculpt lo riduco e quindi gli dico a livello ad esempio due tre vedete che posso fare in realtà posso agire scolpire la forma della mia testa muovendo diciamo meno vertice quindi posso praticamente allungare allargare fare quello che voglio con i pennelli dello sculpting a livello che voglio però per fare le cose diciamo semplici supponiamo che ci accontentiamo di questo peraltro forse lateralmente facciamo andiamo un attimo qua facciamo SY ah no dobbiamo andare in object mode facciamo SY ok vedete che possiamo alterare più o meno le cose quindi questa testa di uovo possiamo ancora col pennello di prima quindi andando in sculpting ecco e qui abbiamo di nuovo il discorso di prima quindi magari facciamo object object apply scale e poi sculpt mode ok e che possiamo fargli anche per dire le orecchie però dobbiamo prendere questo pennello e ci facciamo la nostra orecchia e vedete che è simmetrico poi per i capelli possiamo possiamo fare un po' di rigori qua insomma possiamo prendere allora qui i pennelli possiamo usarne diversi in realtà cioè non hai detto che abbiamo per forza usare comunque già anche il pennello di default questo ci permette già di fare alcune cosette ok quindi abbiamo fatto il nostro il nostro oggettino qui se andiamo nelle nostre slide vediamo che la slide 4 ci parla di usare anche altre e sono tante crease flat e non geblob e poi parla di usare questo matcap il matcap è semplicemente un sistema per vedere l'immagine un pochino più come fesse un materiale specifico la cosa che non abbiamo mai visto a lezione però si vede da qua dovrebbe esserci qua la possibilità di mettere nel display ecco il matcap dicevo si apre qua sulla destra si va sullo shading e sullo shading c'è proprio l'opzione matcap e usando il matcap si può scegliere un materiale vedete adesso questo qui è una specie di gesso però noi possiamo provare a vedere come verrebbe con dei materiali preconfezionati e precostituiti che servono solo a darci un'idea di come verrebbe il nostro oggetto con i vari materiali già preconfezionati e questo è una buona cosa però noi e quindi ci accontentiamo anche senza matcap giusto per vedere come viene il tutto quindi abbiamo visto ecco piccoli lievi insomma queste cose qua e si usano i vari pennelli i vari pennelli io ho fatto comunque vedere delle altre applicazioni nel senso che si possono usare per esempio questo qui il twist è un pennello che in realtà permette di girare e di ottenere vedete qua dei riccioli magari facciamo F per ampliare il pennello e poi facciamo così che arriccia un po' di più adesso qui sto esagerando ma giusto per farvi vedere la allora qua no conviene farlo comunque vedete questo qui il twist e vabbè poi ci sono tutti gli altri pennelli che possiamo possiamo usare per fare i vari effetti il crease ad esempio permetto di fare delle delle pieghe nel senso che possiamo non so con il secondo contro vedete che permette di avvicinare ad esempio stringere praticamente rimpicciolire gli occhi oppure oppure fare praticamente questi effetti poi ad esempio si possono ingrandire ad esempio inflate dovrebbe permettere di ingrandire delle porzioni vedete che lo fa lo rende un po' più sporgenti e insomma qui potete fare quello che volete ok, allora una volta fatte le cose che vi interessano adesso vediamo l'effetto successivo che è quello poi di fare il di fare il il baking quindi dobbiamo innanzitutto in edit mode fare la UV map che è la prima premessa per poter fare il baking quindi UV map andiamo nel nostro amico qua apriamo la parte con le UV map UV image editor eccolo qua ricordiamoci che le UV map si fanno in edit mode vedete che la UV map viene fatta sulla forma di base questa che viene di conseguenza poi spalmata su questo signore e per farlo selezioniamo tutti i vertici con A facciamo U e poi abbiamo detto di usare lo smart UV project lo smart UV project genera questo effetto che non è bellissimo quindi per ottenere un effetto un pochino più professional anche qua si parla di farlo con dei sim con dei tagli strategici ok allora per fare i tagli strategici come facciamo? dunque dobbiamo tagliare in sintesi questo oggetto in modo tale che lo apra in punti che non ci diano troppo fastidio per esempio potremmo dunque andiamo in qua dove che possiamo tagliare questa figura possiamo tagliarla lungo le orecchie ad esempio in modo tale che il taglio non appaia centrale tagliamo qua poi tagliarlo lungo le orecchie e praticamente dobbiamo tagliarlo lungo questo bordo per farlo facciamo A e facciamo Alt e poi clicchiamo qua e vedete che possiamo fare un taglio lì in questo modo viene spezzato lungo queste cose cioè viene aperto praticamente tagliato in due per marcare questo anche questo non sarà il miglior modo di fare l'UVMAP però dovrebbe venire leggermente meglio quindi per farlo andiamo shading UV e facciamo mark sim quindi marchiamo i tagli vedete che sono diventati rossi e poi selezioniamo con A tutto e riproviamo a fare un unwrap facendo in questo modo vedete che l'unwrap è diventato cioè la parte frontale e la parte sul retro e quindi abbiamo il unwrap fatto qui però se vogliamo sfruttare tutto volendo possiamo selezionare tutto facciamo A qua selezioniamo tutto e poi facciamo G Y per spostarlo circa a metà e poi S Y per ampliarlo un po' in modo tale che occupi G Y S Y lo allarghiamo un po' ecco così occupa quanto più possibile della nostra immagine poi ricordiamoci che qui ci facciamo un'immagine vuota sempre in edit mode sempre con il taglio attivo quindi facciamo image new image cancelliamo l'alfa e qui mettiamo bucket ok quindi a questo punto l'immagine verrà faremo il baking qua sopra allora per ottenere il baking giusto su questa immagine occorre andare qui scegliere praticamente la 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 sculting o il preview ecco qui c'è il piccolo dubbio qual era quello che funzionasse comunque mettiamo cominciamo a provare a mettere il preview sul 3 ok facendo il preview sul 3 se noi facciamo il baking il baking basta farlo andando qua sulla macchina fotografica ok ricordiamoci di essere in blender render perché il cycles non funziona ancora questo tipo di baking andiamo sulla finestra di baking qua e gli diciamo di fare il baking delle normali usando il multi-res ok allora facendo in questo modo quindi abbiamo detto che abbiamo messo il preview a un livello più basso che questo proviamo a vedere il baking come viene ah perfetto quindi effettivamente ha ragione cactacea che era il preview quello che fa la differenza quindi il preview è quello di base su cui lui ha applicato le modifiche per ottenere il livello 6 il preview è questo vedete che c'è soltanto 1536 facce quindi non sono tantissime se invece fossimo andate alla preview a livello 6 avevamo 98.000 facce quindi decisamente di meno ok allora una volta avuto il preview a questo punto abbiamo tutto a posto nel senso che possiamo prendere la versione a livello 3 questa col preview e facciamo un export collada ecco collada open sim static e facciamo qua testa multi res video e facciamo l'export collada ok allora testa multi res video vedete che è questa questo oggetto che però mi sa che ha esportato una versione un po' troppo densa quindi probabilmente per l'esportazione conviene forse cioè il giusto è quello anche di abbassare lo sculpting riproviamo a fare un export di questo export collada testa multi res video facciamo 2 e ancora quello allora qui il trucco è quello di usare il preview per indicare qual è il livello che si vuole su cui si vuole congelare quindi il nostro caso è il 3 e poi di fare l'apply in object mode di questo modificatore in questo modo facendo l'export file export collada si si esporta il nostro il nostro oggetto così siamo sicuri che abbia quella quella caratteristica dopo di che una volta esportata possiamo andare come vedete qui sono in second life beta facciamo un upload mesh model e andiamo dove abbiamo salvato la nostra testa che era documents perfetto andiamo la nostra testa salvata vedete che qui abbiamo la nostra testa quindi testa quindi testa facciamo calculate weights and fees sono 15 linden dollari lo ricalcoliamo quindi c'è un l'hand impact di 5 e a questo punto la testa ce l'abbiamo vedete che ha pochi particolari per avere i particolari in più occorre scaricare anche l'immagine su cui abbiamo fatto il baking eccola qua l'immagine del baking facciamo image ce la salviamo save as image ce la salviamo quindi baked testa .png e a questo punto da qua possiamo tirarsi su anche lei upload image eccola qua baked test che è questa la tiriamo su che è questa poi andiamo sul nostro oggetto andiamo nella modalità texture bumpiness questa e ci mettiamo questa immagine e come vedete in questo modo abbiamo aggiunto i particolari alla testa che adesso si vedono ancora pochino perchè per vedersi bene ci deve essere la luce un pochino radente quindi questo si può ottenere anche semplicemente andando environment editor sky no dovere environment settings ah no settings position quindi world sun position mettiamo così per vedere un po' in questo caso la differenza basta che in una delle due ci tolgo la bumpiness quindi e così avete vedete che questa è la mesh effettiva e questa è la mesh invece con i dettagli quindi per vederla ulteriormente bene si può mettere un po' di shininess non fa mai male e gli mettiamo ecco vedete se gli metto la shininess qua si vede meglio praticamente la presenza dei dettagli o meno quindi in realtà questa mesh ha molti più dettagli di questa pur avendo lo stesso peso sulla land non guardate ora al mio esempio ma guardate invece alle meraviglie che è riuscito a fare che è riuscito a fare invece cactacea e credo che con questo sia tutto vi saluto buonasera